L'ex centravanti Gonzalo Higuain ha rilasciato dichiarazioni ottimistiche sul futuro del Napoli in una recente intervista. Il giocatore, che ha brillato nel club italiano prima delle sue esperienze in altre grandi squadre, ritiene che dalla prossima stagione in poi il Napoli abbia tutte le condizioni per diventare la principale forza del calcio italiano. Higuain ha sottolineato la crescente qualità della squadra e la stabilità amministrativa come fattori cruciali per questo successo. Inoltre, Higuain non ha esitato ad esprimere la sua fiducia nella stagione in corso. Per lui la squadra è più che preparata per vincere la Serie A. Credo che il Napoli abbia tutti gli strumenti per vincere lo scudetto quest'anno. L'unità del gruppo e l'esperienza dei giocatori sono elementi di differenziazione importanti, ha affermato. L'ex attaccante ha sottolineato l'intensità e lo stile di gioco della squadra come aspetti che potrebbero portare alla vittoria. L'idolo napoletano ha ricordato anche l'importanza del sostegno dei tifosi. Il calore e la passione dei tifosi sono fondamentali. Spingono la squadra in ogni partita e fanno la differenza nei momenti decisivi, ha detto Higuain, sottolineando il rapporto speciale che il club intrattiene con i suoi tifosi. Crede che questa connessione potrebbe essere un fattore determinante per vincere il titolo. Con grandi aspettative, i tifosi del Napoli attendono con ansia le prossime sfide della squadra in campionato. Le parole di Higuain infondono speranza e rinnovano la convinzione che il club possa tornare a diventare un gigante del calcio italiano, partendo da una stagione vittoriosa che potrebbe culminare in un altro trofeo nella storia del Napoli.